Eccoci, eccoci, eccoci qui, mancano due minuti e quaranta ragazzi all'inizio della live sul canale YouTube dell'Inter, sono le 19.27 quindi manca ancora un'ora e mezza la partita, dobbiamo ancora vedere le formazioni ufficiali ma già sappiamo più o meno chi giocherà e quindi niente ci siamo ragazzi, tra un po' si cena e poi Inter Stella Rossa Champions League Live Reaction. Dai, eccoci, strecche che mancano due minuti, guarda che bello, ciao, salute, la data sta notizia è l'acqua bolle, ciao, eccole qua, allora Fintia, Fintia è il Danna e Assa, Fintia, questo è il match day, il costo della cosa, formazione confermatissima, accendiamo la luce, la donna ha ben letto la luce, cambiamo, diminuiamo poco poco, cambiamo il tipo di luce, ecco, questa qua, ci siamo ragazzi, ci siamo, Inter Stella Rossa, eccolo, cazzo, col taglio tattico, col taglio tattico, taglio, tac, fare il taglio, ma che tattico, col pigiama mi mette, che figo, coppia l'attacco, sbebendo proprio, devi essere fiducioso, devi essere, no, cioè, allora, eh, ha fatto turn over, è giusto, abbiamo il Torino, abbiamo, bravo, bello, mamma mia, carnauto, non ci è arrivato per un pelo, era bello il cross di Denzel, era proprio bello, era, dai, terzo minuto, punizione, questa è bella, vediamo, in mezzo, eccolo, come fuori gioco, ma come fuori gioco, carnauto in fuori gioco, Stefano, guarda, questa è bella, che cazzo, carnauto, sempre in fuori gioco, disgraziato, bacca, è rotti i coglioni, caressa, ma che cazzo le ferie dei passaporti di questi, sai, sì, va bene, hai fatto tutta la spiegazione, poi ci racconti la partita o? Bravo, oh, e fallo per noi, bravissimo, bravo Michi qua, per me, sono insieme, eh cazzo, se guardano la punizione della Madonna, eh cialati, tiro, titipatкое, tira, 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 tra l'altro, di tutto il tuo grado, tira, no, ma davvero, tira, 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 gol, che gol, ma dove l'ha messa, ma dove l'ha messa, ma dove l'ha messa, ciala, ciala, non è un piede, è un compasso, mamma che gol mamma che gol che ha fatto vai Ciala 1 a 0 idolo nero blu a Cialano blu oh 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 ma che cazzo è una parolaccia ma che numero è il blu bravo ha fatto bene che ce l'ha il tiro il briscola si è liberato bene ha fatto bene bravo briscola ma poi lo dice proprio così non dice una parola come cazzo l'ha chiamato? forse è Reby non lo so bello bello Taremi dai è gol ma col fuori gioco come i due coglioni ma come era doveva tirare Arnautovic ma non l'ha tirato ma cazzo Arnautovic ma vai si è fermata è andato Arnautovic che era fuori gioco dai dai andiamo noi dai Ciala dai Ciala testa alta testa alta lancillo che bello e la metti giù Arnautovic Arnautovic bella palla mamma che palla mamma che palla mamma che palla mi ha dato Mkhitaryan addosso al portiere ha tirato dai ripresa bravi oh Arnautovic la tiene la stoppa numero si gira si rigira che cazzo fa metti in mente bello bello dai no sei papocchiato si rigira si rigira ora mi ha messo in mente cazzo cazzo ah si perché ha fatto un movimento strano le telecronache con Arnautovic si rigira si rigira l'inca mi ha fatto un po' di esterno che fissa ora oh la inca oh la inca oh oh è solo è uomo minchia se la pigli un po' di esterno se la pigli ad esterno a giro ti fa gol dai che vogliamo il gol di Carnato tu dici oddio metti in mezzo oh dai che la si virgolata che no non parte ma quando vedi che non viene da danno già parte a mille e dopo torna madonna che cazzo ha con la zommer oddio che numero che numero che fazzino cazzo cazzo ha scartato uno ce la sto a fare che numero stop scarta l'uomo e la dà mamma zommer occhio il briscola oh c'ala dai dici che tira che ce l'hai che tiro di mezzo merda ci rischi a tira che ce l'hai vai cazzo di tiro guarda qua zommer guarda zommer tac oh pavano che ti rischi minchia che tiro benji bravo era bello dai non lo so neanche dove dai benji dai dai ma che cazzo ce ne frega racconta l'azione tipo a gol e lui continua no perché lui si faceva il bidet dopo che l'ha cagato che cazzo bravo dai 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 ma che cazzo fai ma perché ma perché vai dai 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 ma dai ma perché vai micchi minchia tira alto ma perché ma perché ma perché minchia l'ha tirata in faccia la deviata ed è arrivata in faccia guarda sul corpo comunque cazzo mi chitariano porca era bello sto cross dai Taremi dai tira tira gol e vaffanculo gol vai Karnautovic e vai cazzo Taremi fotte la palla da Karnautovic 2 a 0 vaffanculo vai dai dai che buona dai 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 Karnautovic cazzo l'ha presa di piede bella questa bella la anche micchi è stato bravo qua no qua no perché col destro e sinistro qua non era facile bello che palla micchi dai andati in mezzo vai dai dai Carlos Carlos no cosa ti sei mangiato e vi anche Taremi in mezzo Maximo dai vai vai Taremi cazzo vai Taremi bello per l'auti e gol 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 bravo Taremi se non gli fa fallo se ne va in porta quello è quello che vedi tu lo standard è vero e vai Toro 3-0 doppio assist di Taremi bravo che se ne era andato se non gli fa fallo cazzo vedi bello bello vai Carlos spingi spingi e metti mezz'ora bravo così mamma del zero no cosa sei mangiato ma cosa ha fatto bravo Carlos bravissimi tutti ma Carlos ha fatto un'azione della madonna qui è la messa giusta girati vai Taremi vai Medi vai Medi e rigore eh sì che perlata dai bisogna fare un rigore del genere respiro saltello corsetta tiro e gol 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 Medi Taremi vai Medi primo gol col d'Inter e due assist bravo bel rigore calciato centrale quattro pere fatti dare il pallone e finisce e finisce andiamo a quattro punti quattro a zero quattro belle pere alla stella rossa che veramente non c'è cazzo ma si può usare così è la puntata la Pepsi la Pepsi la sorella alle prossime le avrei essere ragazzi che saranno quelle di Inter Toro e lì lì ci vuole lì ci vogliono i tre punti assolutamente condividiamo i miei chiediti al canale e sempre Forza Inc ciao